Paolo, commentiamo tutte le iniziative che hai fatto quest'estate al Parco Pitagora e al Museo Pitagora, iniziative veramente di grande spessore culturale. Sì, a me piace da tempo sia presentare libri ma soprattutto organizzare concerti. Quest'anno è stata la terza stagione di questa rassegna dedicata alle voci femminili. Ne abbiamo fatto ben nove concerti, andremo a terminare il 3 settembre con Valentina Carvelli, una delle nostre eccellenze della nostra provincia. E poi abbiamo presentato due libri, ne presenteremo un altro anche le lunedì prossimo, questa storia dell'antindrangheta che è di questo giornalista di Repubblica. Due presentazioni particolari, con molta gente, con molto pubblico. La prima con Sergio Cammeriere, non c'è bisogno di presentarlo. Il secondo, con grande soddisfazione, ho presentato in Antiprima Nazionale il libro di Maurizio Fiorino, Macello, anche lì tanto pubblico. In particolarità è che poi Maurizio sta stampando con una delle case editrici più famose che c'è in Italia, che è Leó, giusto per rendere un minimo. È la case editrice di Elena Ferrante, è la case editrice di questa signora che da tempo che è in cima alle classifiche, la Perin, Cambiare l'acqua e i fiori. Quindi già Maurizio è lanciatissimo nel panorama editoriale. Grande soddisfazione perché la soddisfazione poi la dà di voi, la dà il pubblico, la dà i crudonesi che frequentano le manifestazioni che io organizzo. Hai detto bene, la presentazione dei libri è fondamentale perché è un tuffo nella cultura, ma la musica, i concerti, dobbiamo dire, questa città ha voglia di musica e di concerti, soprattutto anche di avere degli spazi liberi in un momento così particolare. Sì, la scelta, non a caso la scelta di Parco Pitagora, o Parco Pignera come si vuole chiamare, è stata ponderata soprattutto per questo strano periodo che stiamo vivendo, che è quello della pandemia. Tutte le manifestazioni sono statevate con prenotazione, distanziati, però abbiamo visto che anche con delle situazioni molto particolari la gente ha frequentato, le persone, il pubblico ha frequentato, anche con grande soddisfazione.